La selezione avviene sulla spiaggia Presiede la giuria Mariannini, macchietta scontata di lascia ora doppia. La fascia è conquistata per l'Italia da una figliolona Umbra, pescata a caso tra le spettatrici. Le elezioni e i concorsi di bellezza hanno un preciso rituale, sfilata delle concorrenti, in questo caso tutte ben sistemate in quanto a carrozzeria. Quindi gala nel locale alla moda dove giovani virgulti e leopardi dorati sfogano la noia applaudendo o fischiando a caso. Eletta e subito incoronata lei di Europa, una turista svizzera di passaggio. Ha prevalso il concetto della neutralità e si deve. Dopo le elezioni immancabili le dispute e i contrasti, c'è sempre chi pensa in fondo era meglio quest'altra.